Enrico Mentana dopo un acceso confronto con Lily Gruber sulla 7 fa ritorno sui social per condividere una gioiosa notizia, la nascita del suo nipotino. Già lo scorso gennaio in occasione del suo 69esimo compleanno settimanale, chi anticipava che il conduttore e direttore del Tg la 7 sarebbe diventato nonno. Ora con una commovente foto scattata nella sala parto della clinica Mangiagalli, Mentana annuncia con gioia l'arrivo del nuovo membro della famiglia. Stamattina sono tornato nella sala parto della clinica in cui sono nato molti anni fa, ha condiviso Mentana aggiungendo che c'era qualcosa di ancora più speciale, riempendolo di felicità e orgoglio. Questo primo bebè è figlio di Alice, secondo genita di 32 anni nata dalla relazione di Mentana con Letizia Lorenzini del Milani. Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi in cui nacqui tanti anni fa. C'era qualcosa di più importante che mi ha reso felice e orgoglioso.